L'evento delle vacanze di Natale, il re della musica auto, tra i migliori DJ al mondo, lunedì, lunedì 27 dicembre, Enigma Disco presenta Mr. Giù T. Vannelli. Giù T. Vannelli. Enigma Disco. Via Marinella, Bastioni di Malta, La Mezzia Terme. Info e prive 02 450 77 227, lunedì, lunedì 27 dicembre, Giù T. Vannelli. Discoteca Enigma, La Mezzia. Grazie a tutti.